Questo convegno organizzato qui a Mazzara del Vallo sulla geotermia, sul potenziale geotermico della Sicilia ha lo scopo di mettere insieme i diversi attori principali che possono permettere effettivamente lo sviluppo della geotermia in questa terra. Quindi chi sono gli attori principali? Sono sicuramente i geologi, sono gli esperti di trivellazione, sono gli esperti di sistemi geotermici, quindi esperti di pompe di calore ma non solo, sono anche le persone che sanno aiutare gli agricoltori o i privati cittadini che volessero iniziare un'attività geotermica, con l'installazione geotermica, a trovare quei finanziamenti, quei aiuti e sostegno finanziari dalla regione, dallo Stato per poter accedere a delle risorse che permettano lo sviluppo della geotermia. La geotermia in realtà è una scienza che vede diverse discipline essere coinvolte. La geologia, quindi lo studio della terra, del calore che questo nostro pianeta eccezionalmente ci regala da questa storia lunghissima del nostro pianeta che si sta raffreddando ma ha delle temperature altissime. Pensiamo che il 99% del nostro pianeta è a più di 1000 gradi. Quindi la geotermia è lo studio della distribuzione di questo calore nel sottosuolo a diverse profondità ma non solo, è anche una sfida tecnologica, un sapere come sfruttare questa energia che può essere sfruttata in maniera diversa in base alle diverse temperature alle quali si trova. La temperatura della terra può arrivare fino a 1000 gradi ma per avere uno sfruttamento massimo della geotermia e la produzione di elettricità. Bastano 140 gradi. 140 gradi che per esempio nella zona siciliana si possono trovare a un chilometro e mezzo, due, due chilometri e mezzo dipende da dove si trova. Ma questo non deve essere il solo scopo della geotermia. La geotermia per riscaldare degli ambienti, per esempio ci sono molte case in Sicilia che non hanno riscaldamento giustamente nelle zone invernali potrebbe essere di interesse, c'è molta attività agricola che potrebbe beneficiare di riscaldamento e ricordiamo che la geotermia permette anche il rinfrescamento degli ambienti. Ecco, per queste attività una temperatura di 20, 25, 30 gradi nel sottosuolo bastano e sono assolutamente facilissime da trovare perché sono le temperature che si trovano comunemente in tutta la superficie della terra. Abbiamo voluto organizzare questo convegno sulla geotermia per far conoscere un tesoro nascosto nel sottosuolo. Lo scopo di questo convegno è di far conoscere la geotermia. La geotermia è una fonte di energia rinnovabile a impatto ambientale a zero, un'energia oltre che a impatto ambientale a zero anche a costo zero. Il nostro scopo è quello di farla conoscere a più persone. Più persone sarebbe come strutture alberghiere ricettive. E poi se ci riusciamo anche al singolo cittadino, che praticamente riscaldare e raffreddare una civile abitazione sfruttando il calore del sottosuolo quasi a costo zero, penso che conviene a tutti. Quando Triver Sicilia, per me il signor Castelli, ci hanno chiesto di dare il patrocinio a questo convegno, visto l'argomento e il tema da trattare molto interessante, l'abbiamo sposato con entusiasmo. E con entusiasmo è stato anche sposato, vista la presenza cospigua dei colleghi che sono presenti in sala. Colleghi che stanno vedendo Deviso quando il professor Moscarello, un illustre illuminare della geodermia, sta portando a conoscenza di tutti noi. Fenomeno di regia alternativa che molti di noi sconoscevano e che oggi stiamo imparando a conoscere attraverso la relazione esaustiva del professor Moscarello, del dottore Luca Gognimetti e quindi penso che da qui potranno partire iniziative volte a sfruttare questa energia in agricoltura, noi che facciamo consulenza per le aziende agricole, sia per i vivai che per le forzature, per il riscaldamento in serra, ma anche per le nostre cantine sociali, per la refrigerazione dei vini e non solo, dice il testo del convegno, ma sicuramente potrà essere usato e utilizzato per usi civili e industriali e per questo ringraziamo ancora una volta la Tribes Sicilia e quando hanno organizzato e noi modestamente che abbiamo dato il nostro patrocinio a questo convegno.